Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme una torta autunnale con mela, caffè e cannella. All'interno di una ciotola inserite 2 uova e 150 g di zucchero. Mescolate bene il tutto con lo sbattitore elettrico. A questo punto aggiungiamo tutti i liquidi, 100 g di latte, 50 g di olio di semi di girasole e 60 g di caffè. Mescolate bene il tutto con lo sbattitore elettrico. Poi unite 250 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci e cannella in base ai vostri gusti. Mescolate. Poi unite un vasetto di yogurt, io lo sto utilizzando al gusto mela ma potete utilizzare il gusto che preferite. Anche in questo caso mescolate con lo sbattitore elettrico. Poi unite una mela tagliata a dadini che avrete precedentemente mescolato con 30 g di farina 00. Mescolate bene il tutto con una spatola. Versate il composto ottenuto all'interno di uno stampo da venti precedentemente imburrato e infarinato e infornato in forno caldo statico 180 gradi per circa 30-35 minuti. Mi raccomando verificate i tempi di cottura in base al vostro forno. Ed eccola qui la torta caffè, mele e cannella pronta per essere gustata. Una torta dal sapore autunnale, semplice e veloce da preparare. Ed è sofficissima. Mi raccomando provatela. Ciao a tutti e alla prossima videoricetta. Ciao!